io posso ritagliare la sagoma intorno qui? yes attenzione more se no ti impasto anche le dite qui sotto ok non vogliamo mettere troppo pressione sopra così va bene adesso fammi sentire ok non spingi troppo perché se spingi troppo questa impressione si lascia sul nostro pasta di zucchero ok lo prendo io e te la fai tutto te ok ti aiuto un'altra no ti do un consiglio girala così ok e provi andare dritto e non dentro così ok ok vedi che fai sta andando dentro ok dobbiamo rimanere sempre verticale questo non andare dentro ok ecco vediamo come il nostro cerchio è venuto male no 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 ok prima dobbiamo vuoi dare te una spruzzatina lontano perché non vogliamo che l'acqua si colla dove deve essere sì solo per abbastanza per renderla umida posso mettercela ok piano ok piano così qua vedi ok e poi dobbiamo chiudere questo qua e questo lo farò usando il nostro smoother ok ok adesso andiamo non è ciò che potevo farlo io piccolino ok c'è finito quell'ultimo pezzo andiamo un po' brava ok adesso siamo pronti sai che facciamo la decoriamo sì annabella sei pronta per questa torta romantica sì allora oggi ti insegno come si utilizza una stampa di silicone due un stencil che facciamo con la ghiaccia reale che è una tecnica bellissima che rende qualsiasi torta molto più elegante e poi ti spiego come si fa una torta a due piani ok cominciamo con il nostro stencil l'ho comprato questo ci sono quelli che li vendono per le torte questi l'ho comprato di qualsiasi negozio obistica va bene così non è che devi andare a cercare le cose costose per le torte poi spingi dentro la torta poi cominciamo qua però dobbiamo essere sicura che è tutto attaccato alla torta ok qui ho preparato la ghiaccia reale in inglese si chiama royal icing ok e si fa con zucchero a velo album di un uovo e se stai facendo per i biscotti si può anche aggiungere un po' di di succo di limone per dare un po' di più sapore poi prendiamo una spatola guardiamo che l'altezza della torta fino non è tutto l'altezza fino lì e mettiamo un po' di royal icing sopra qui mi sento come un muratore con cannabella devi provare di lavorare abbastanza veloce pulisco qua poi lì ok adesso è una bella una piccola preghiera aspetta tolgo questo spiglio come è venuta ok adesso facciamo l'altro lato mi aiuti ti do due spiglie mi lascia due brava e il due sopra lì qui brava ok io adesso fai tutto liscio 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 sulla torta si va intorno ok uno lì però poi vi controlliamo ok adesso siamo pronti per partire di nuovo prende la spatola la ghiaccia reale ok lì bene qui un po' di più ok ne bella l'ultimo pezzo li vuoi provare te? si ok metto un po' farò del mio meglio ok ok stiamo goccellando ok ti aiuto anch'io però ok vai uno due tira brava vai ok a questo punto si può andare anche su così ok ok siamo pronti togli le tue spiglie tolgo io questi bene bella adesso dobbiamo aggiungere questi pezzi qui questi dettagli che l'ho già preparato ok siccome è un stampo di silicone abbastanza grande e lungo non è leggero questo pezzo io userei un po' di ghiaccio reale per far attaccare alla torta ok però si aggiunge un po' di acquetta per farla diluire un po' poi si va però questa parte sopra la fa alzare sul piano poi si va applicare sulla torta così tieni in mano un attimo perché vogliamo essere sicure che rimani attaccato ok aspetta se guardo con attenzione la parte che non devo ricoprire è questa parte sopra infatti bene vai tutto in fondo ora c'è l'ultima sì poi qui vado a pulire un po' anche se è quella lì veramente nessuno la vedrà però ok l'ultima da che parte non lo devo prendere? questa è la parte che sarà attaccata alla torta in fondo ok con l'ultimo pezzo brava ok Annabella adesso ti fa vedere come si fa una torta a due piani che molti mi chiedono come si fa io ho già preparato il piano superiore che è questo qua ti piace? sì è molto bello ho messo anche le farfalle appoggiamola lì non le toccare ok una cosa importante è che se mettiamo una torta sopra un'altra c'è il rischio che quella sopra è pesante e poi su questo sotto si schiaccia e questa sarà una cosa brutta perché si comincia a vedere che non è più perfetto su ogni lato ok? così che dobbiamo fare? io ho questi stecchini si può anche usare quelli più grossi di questi io uso questi perché è una torta solo a due piani mettiamo uno dentro guardiamo dove arriva ecco ok secondo si spingi dentro di nuovo aspettate tengo io grazie tieni la fote ok e per questo la metto solo tre dipende dalla grandezza della torta ti puoi mettere quattro, cinque, sei sette, otto, nove sì anche quelle enormi per i matrimoni e poi non saranno stecchini piccolini così saranno una cosa molto più grosso ok la nostra torta sopra ha sempre un piatto sotto così questi stecchini non stanno toccando una torta sopra stanno toccando il piatto così il piatto che prendo il peso che va sopra questi stecchini ok allora per fare le attac... posso mettercela? non lo faccio io perché non vuole che si goccia la sola torta si mette sempre sui nostri stecchini questa è la nostra colla e poi prendiamo la nostra torta dobbiamo essere sempre sicuri che siamo centrato ok per finirla voglio usare di nuovo il nostro sugar gun ok che è la nostra migliore amica veramente della decorazione della torta amica che io non lo potrei fare senza si mette dentro posso? si un attimo voglio bagnare un po' hai visto com'è perfetto? ok è una bella tienila lì il ghiaccio reale è tutto attaccato ma quello lo stavo tenendo per dopo ok adesso andiamo ad aggiustare ecco uno ecco Annabella manchiamo il bordoncino in fondo e poi abbiamo finito ci penso io lo faccio io perchè è duro la glassa lo voglio no perchè scusa cara vedi che tutto devi fare vedi tutto così e voilà che ne pensi? bellissima anche io sono molto contenta molto romantica molto elegante manca la foto ah dobbiamo fare la foto Annabella sei pronta per la foto? si guarda cosa ho preso fammi vedere ah adesso la nostra torta è finita vieni più avanti grazie uno due grazie prego grazie 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 grazie